Un gol su punizione contro l'Ascoli, soprattutto un gol al Livorno, stagione 1988, quella della promozione, meglio del ritorno, dell'Ancona in Serie B. Sono due delle reti, mezzo a 249 presenze di Massimo Gadda in questa porta, la porta alle mie spalle. Massimo Gadda che torna ad Ancona per questo Gadda Day, partecipa all'allenamento e poi effettua un briefing tecnico con gli allenatori della scuola calcio Ancona Respect che fa parte della polisportiva Assata Shakur. Inevitabilmente una giornata a Marcord per uno dei simboli, uno dei pilastri, uno degli eroi fondatori della storia del calcio ad Ancona. Lo hanno chiamato il Gadda Day perché è il ritorno di Massimo Gadda ad Ancona, un simbolo del calcio anconetano, alle spalle un simbolo di questa città. La prima domanda è che emozione c'è a rimettere piede nella città che è un po' la sua seconda casa. Sì, io quando torno qui, l'ultima volta c'ero tornato quando allenavo il Forlì, è sempre una grande emozione, questa è una città che mi ha dato tanto, dove ho vissuto otto anni, dove ho avuto dei successi calcistici importanti, dove sono nati i miei due figli e quindi è veramente per me, anche se sono un po' di anni che sono andato via, è una seconda casa. Tanti luoghi di cui conservo i ricordi, uno in particolare è lo Stadio Dorico perché è lì dove ha messo piede per la prima volta, lì dove ha vissuto gran parte della sua carriera con la maglia dell'Ancona ma anche di successi. Sì, sicuramente più il Dorico senza ombra di discussione che il Del Connero, anche se il Del Connero è nato nell'anno della Serie A quando ci siamo andati noi, l'anno dopo della Serie B quando abbiamo fatto la finale di Coppa Italia, però il mio Stadio è il vecchio Dorico, quello sicuramente. E cosa le ricorda il Dorico? Quante cose lì dentro? Quante storie? Quanti episodi? Eh, tante che adesso raccontarle sono troppe, sicuramente grandi successi perché i due campionati vinti della Serie C e della Serie B sono stati veramente un'emozione forte e quindi ci siamo sempre rivisti quando anche sento i miei ex compagni in questo stadio che magari era un po' vecchio però aveva un suo fascino, soprattutto la curva quando era piena era qualcosa di incredibile. Una curiosità, visto che siamo nel mondo dei social, vi tenete in contatto ancora voi compagni della promozione dalla CLB o quella dalla BIA? Sì, guarda, noi proprio poco tempo fa abbiamo creato un gruppo su WhatsApp con i vecchi compagni di quell'anno lì e quindi ogni tanto ci iscriviamo in occasione delle feste oppure se c'è qualcosa di particolare, quindi grazie alla tecnologia, ai social, a queste cose qua siamo in contatto. E la forza di quel gruppo è stato il segreto anche di quelle vittorie, forse l'epoca più importante e più bella del calcio anconetano? Sì, siamo tornati in B dopo tanti anni, abbiamo fatto la prima volta la Serie A e quindi si era creata veramente con la città, con la gente, con i tifosi, un rapporto straordinario e avevamo un gruppo noi di ragazzi all'interno veramente che si identificavano in questa città e proprio grazie a quello abbiamo ottenuto dei successi che ancora dopo tanti anni ricordiamo come se fosse ieri. Lei ha detto Ancona è nel cuore, quindi risponde sempre presente a ogni cosa o richiesta che arriva da questa città come la giornata di oggi, Ancona Respect è un progetto, è un qualcosa di molto molto bello a cui non ha potuto dire di no evidentemente? No, sono venuto assolutamente volentieri, è una cosa nobile quindi sono contento di dare la mia presenza almeno per un giorno e poi quando posso si torna ad Ancona, quando mi chiamano, quando c'è qualcosa si torna sempre volentieri. Segue quello che succede nell'Anconitana di oggi, quindi nella squadra che rappresenta oggi il calcio? Ma io da quando sono andato via, quindi tanti anni fa, l'Ancona l'ho sempre seguita sia nei suoi momenti migliori perché poi ha vinto ancora un campionato in Serie B, ha fatto ancora la Serie A, sia nei suoi momenti bui dovuti a fallimenti e quindi l'Ancona tutti gli anni l'ho sempre seguita. Su questa, sulla società di quest'anno e dunque sul campionato di quest'anno che sembrerebbe già praticamente chiuso, è un altro percorso di una risalita forse un po' lunga ma si cominciano a bruciare le trappe? Sì, anche se io ritengo che vincere i campionati è sicuramente importante, uscire da queste categorie è importante, però visto quello che succede al giorno del calcio, la cosa importante è che la società diventi forte, che diventi con una struttura importante, in modo che i campionati vinti non siano una cosa solitaria a sé stante ma sia qualcosa che possa durare nel tempo. È chiaro, questo campionato non dico che è vinto perché alla fine però credo che nove punti di vantaggio siano tanti e possa veramente arrivare fino in fondo. Gad è stato simbolo di un'epoca, da qualche settimana a questa parte ce n'è anche un altro, sto parlando di Mastronunzo e il suo record di gol, lei che ha un po' più di esperienza, se la senti dire che siete un po' le ultime due bandiere del calcio di Ancona e per come è fatto il calcio oggi è difficile pensare a qualcun altro oltre voi? Sì, probabilmente siamo i due simboli, ognuno per le annate che ha fatto, io perché sono stato otto anni e cinque anni capitano, lui per quello che ha fatto, per i tanti gol che ha segnato, per la scelta che ha fatto di tornare in un momento difficile, quindi credo che negli ultimi vent'anni dell'Ancona possiamo essere sicuramente scelti come i giocatori simbolo. Arriverà anche il giorno che vi incontrerete? Ah, non so, può darsi, vediamo un po'. Ultimissima domanda invece, se sono maturi i tempi per un ritorno di Gadda ad Ancona dal punto di vista della professione? Ma quello non lo so, se ne ho parlato anche altri anni, ma sinceramente non ne ho idea, adesso è importante che l'Ancona vinca a questo campionato, faccia un altro saltino e poi vedremo, non lo so. Massimo Gadda, un pezzo di storia dell'Ancona, un gran bel pezzo di storia che si presta ad un pomeriggio molto bello con Ancona Respect, come vi è venuta in mente intanto questa idea? Ma come ci è venuta in mente, come sapete la nostra società nasce da un gruppo di Ultras dell'Ancona, quindi le radici sono dietro a quella curva là, dietro a quella porta là, e quindi Massimo Gadda è stato chiamato perché comunque è una bandiera dell'Ancona, però vi dico la verità, la scelta ricade soprattutto nell'uomo e nella sua etica di fare sport, infatti al di là che sia stato il nostro capitano, otto anni quindi ci ha riempito di gioia e gloria, però è stata più una scelta legata all'uomo Gadda, allo sportivo etico che poi è il nostro messaggio quotidiano. Una storia della vostra scuola calcio che ha preso anche una nuova strada perché se guardiamo alle tue spalle insomma c'è un bel settore tutto al femminile. Assolutamente sì, quest'anno ci è esploso così da settembre, abbiamo 18 ragazzini di cui 16 fanno parte della squadra Under 12, è una esperienza bellissima, io ho la fortuna diciamo per caso, per necessità di allenarle quest'anno e sto riscoprendo veramente dei valori incredibili, avete visto poco fa insomma, sono state quelle più attive nel fare le domande perché sono molto curiose, molto agguerrite e poi adesso quest'anno tra pochi giorni andremo a iniziare un torneo Under 12 regionale, quindi per noi diciamo in questo senso rappresentare Ancona è un motivo di grande orgoglio e loro sono un po' spaventati a dire la verità, perché ovviamente sono ragazze che hanno iniziato a giocare da quest'anno, che a settembre che a ottobre, però in pochissimi mesi come magari vedete anche voi hanno fatto dei grandissimi progressi, quindi affrontiamo questa avventura col nostro solito spirito che è quello di giocare, di divertirsi e di mandare messaggi positivi, poi il risultato arriverà. Quali altre idee o progetti avete in cantiere? Ogni mese abbiamo intenzione di riservare delle grandi iniziative, questa è soltanto la seconda, abbiamo altri nominativi che non svelo perché ancora non abbiamo la conferma solo per quello, però altre giornate come questa che fanno bene secondo me soprattutto ai ragazzi, però ai nostri mister e perché no anche in questo caso come massimo alla città stessa. Grazie a tutti! Grazie a tutti!